ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso bordo decorativo con effetto pilice guardate che meraviglia secondo noi è un bordo che non potevamo farcelo mancare in quanto facilissimo da realizzare e con un bellissimo effetto guardate con qualsiasi tipo di filato questo bordo questo tipo di lavorazione sta veramente molto bene qui invece vediamo unione del bordo con effetto di pilice e sopra abbiamo invece il nostro campioncino che avevamo visto anche nel tutorial precedente in cui abbiamo realizzato il bordo con i fiorillini qui invece l'effetto di loro due messo insieme davvero molto molto bello può essere l'inizio di un progetto qui abbiamo realizzato il nostro bordo con effetto pilice in lurex in cotone e anche in lana proprio per farvi vedere che con qualsiasi tipo di filato che andiamo a lavorare l'effetto è sempre bello e non si modifica anzi forse anche uno più bello dell'altro quindi possiamo andarlo veramente applicare per qualsiasi tipo di progetto sia invernale che estivo che mezza stagione partiamo con il nostro campioncino e andiamo a avviare 17 mali noi per l'avvio andiamo a utilizzare avvio alla nordica questo bordo prevede questo punto bordo prevede la lavorazione con un numero dispari delle mali per riuscire avere effetto pari che sia dall'inizio che dalla fine quindi come nel caso del bordo con i fiori ecco qui abbiamo avviato le nostre 17 mali per il nostro campioncino ora andiamo a lavorare la base del nostro motivo del nostro bordo scusate perciò andiamo a fare due feri entrambi lavorati a diritto ecco qui dopo aver messo la nostra base partiamo con la nostra decorazione quindi la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo la maglia subito dopo la andiamo lavorare a diritto normale e ora partiamo con la lavorazione e creazione del nostro effetto pilice guardate qui dobbiamo entrare nell'asolo come se dovessimo andare a lavorare una maglia a diritto normale appoggiamo il nostro dito sopra il nostro ferro e iniziamo avvolgere con il filo ferro insieme al nostro dito guardate uno e lo manteniamo cerchiamo di non far perdere il filo due e tre abbiamo avvolto tre volte il dito insieme al filo e la quarta volta invece avvolgiamo solo il ferro e ora estraiamo questa maglia particolare strana che abbiamo realizzato facendo cadere l'asola nella quale siamo entrate vedete questo è il primo punto che abbiamo fatto non tirate troppo il filo per non perdere le maglie lunghe che avete realizzato ora partiamo subito dopo con la successiva maglia che andiamo lavorare a diritto quindi di nuovo una coppia l'abbiamo fatto seconda coppia entriamo di nuovo in questa maglia da lavorare a diritto come se dovessimo lavorare a diritto normale iniziamo fare avvolgimento intorno al ferro al dito tre volte 1 2 3 la quarta volta avvolgiamo solo il ferro e ora andiamo estrarre questa maglia particolare con le maglie lunghe e facciamo cadere l'asolina nella quale siamo entrate per creare queste maglie e guardate che meraviglioso risultato che abbiamo ottenuto con questa semplicissima lavorazione concludiamo la nostra coppia lavorando la seconda maglia a diritto normale e così dobbiamo andare procedere per tutto il bordo ed ecco qui abbiamo fatto il nostro ferro di andata e guardate come si presentano vede davvero carinissimo ora il ferro di ritorno noi dobbiamo andare lavorare tutte le nostre maglie a diritto la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo e abbiamo due tipi di maglie che si presentano una quella normale singolare che andiamo a lavorare a diritto normale e subito dopo abbiamo la nostra maglia che si presenta con più maglie noi questa qua la dobbiamo andare lavorare insieme quindi fare la diminuzione entriamo nelle sue asoline e andiamo a ricavare un'unica maglia e ci aiutiamo con il dito a mantenere la lunghezza delle maglie che abbiamo creato nella prima maglia quindi prima di tirare andiamo ad aggiustare con la mano e così procediamo per tutto il ferro tutto a diritto quindi la maglia normale che si presenta a diritto si lavora a diritto normale subito dopo la maglia lunga va lavorata con la diminuzione a diritto normale ed ecco qui abbiamo terminato la realizzazione del nostro bordo con l'effetto pilice dopo questi due ferri noi possiamo 4 perché ci sono anche due di base noi possiamo andare applicare il nostro motivo principale e creare il nostro progetto oppure possiamo andare fare come abbiamo fatto sul nostro esempio mettere la nostra base con effetto pilice mettere il bordo con i fiorilini tutorial del quale troverete nella descrizione dopodiché aggiungere il nostro motivo e portare sulla nostra lavorazione a noi è piaciuto veramente tantissimo questo effetto l'abbiamo voluto condividere con voi speriamo che sia stato utile che sia stato chiaro grazie che avete seguito questo tutorial se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo e non dimenticate attivare la campanella per ricevere le notifiche grazie a tutti al prossimo tutorial ciao 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 ciao